Penso che incontro Ivarini, ci guardiamo negli occhi e capiremo insieme se il voler stare ancora insieme lo sentiamo tutti e due oppure se le cose non dovranno andare come spero il contrario, mi dispiacerà molto, sicuramente rimarremo legati da questa avventura per sempre perché siamo andati insieme in serie B, ma io penso che ci sono tutte le basi per poter far sì che il nuovo Teramo riparte da Ivarini, Campitelli e Lupo, dobbiamo ripartire con un progetto nuovo, quindi se non ci sono i presupposti giusti, ma non da parte di Campitelli e Luciano, ma da parte di tutti e due, noi se dobbiamo ripartire, dobbiamo ripartire con l'intenzione di voler di nuovo tornare in un anno, in due, a poter riprogrammare una cosa importante, ripartendo sicuramente dal basso, non parlando più del passato perché il parlare del passato ci ha fatto arrivare gli ottavi, e poi come tutti gli uomini abbiamo i nostri caratteri, io ho il mio, un bello brutto, però rappresento una società e lui ha il suo, sicuramente su tante cose non la vediamo lo stesso modo, ma credo che se io tolgo Ivarini e arriva un altro, penso che il problema è sempre lo stesso perché non sempre si ragiona con la stessa testa. Grazie. 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 Grazie.